per imitare Ivan dovrei fare la parlata campana siamo qua come al solito per il nostro appuntamento giornaliero con il TG Olimpico top e flop della giornata olimpica da Tokyo, ce n'è tante cose di cui parlare, noi stamani con Simone abbiamo fatto questa bella diretta alle 8.30 per Italia-Grecia, partita incredibile sì, davvero alla fine è stata è stata una gara come mi aspettavo l'ho scritto anche su Twitter una gara equilibrata, difficile soprattutto in bilico fino all'ultimo secondo e così è stato, certo che se tutte le partite d'Italia sono così non ci si arriva a vivi direi di no, tra l'altro la prossima Simo che seguiremo, quando è? giovedì alle 7 di mattina che c'è Italia-Stati Uniti vabbè dai, per ora che non torneremo a Italia-Ungheria che sarà alle 3 della notte si fa una piccola levartaccia ma alle 3 di notte cioè, che lì diventa il dilemma che faccio, sto sveglio fino a quell'ora vado a letto presto e metto la sveglia a quell'ora perché effettivamente è quell'orario che se fossero le 2 dici, vabbè, sono le 2 faccio una tirata e poi va a letto le 3 cioè, arrivarci è lunga cioè, non è che è proprio vabbè, se è sabato sera uno esce a fare certo, fa serata e poi arriva in condizioni in condizioni splendide infatti, ti racconto questo che io sabato sera comunque sono uscito e c'era un mio amico che aveva letto l'annuncio e fa ma come sei qui che devi fare la diretta dopo e ho detto, vabbè in senso, faccio una bevuta tranquilla non è che mi devasto ah, e non ce la farei non ce la farei vabbè, insomma, la gente non ce la fa perché è un po' più deboluccia dai, allora direi di ricordare questa cosa perché allora purtroppo 800 sono corsi di 800 stile notati di 800 stile qualche minuto fa una quindicina di minuti fa insomma insomma partirei parlando di quelle Simo sensazioni non positive Detti ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi purtroppo non è il Detti che ci aspettavamo e Greg ha veramente patito la mononucleosi che purtroppo incredibile a dirsi l'ha colpito a un mese e mezzo dall'Olimpiadi quindi veramente una sfiga totale sì dai io ti ringrazio di farmi la domanda sul nuoto perché oltre a palla al nuoto è lo sport che seguo di più quando ci sono le Olimpiadi per cui non mi metto in difficoltà con il 3x3 lo skate con il badminton con il badminton e sì no ho visto la gara e tra l'altro mi avevo molto colpito quello che che ha detto poi Detti ai microfoni della Rai ho detto ho fatto una fatica incredibile ha detto è stata una gara in linea con gli ultimi due anni ha detto ora preparerò l'ultimo appuntamento che è Roma vacanze poi dopo testa bassa e ricominciare però insomma mi sembra che ha preso la sconfitta con grande signorità e anche con un po' di di leggerezza che insomma è tipica di noi toscani dai diciamoci facciamoci un po' i complimenti per questo sì sì poi ha fatto anche l'imbocca al lupo a Greg dicendo che la gente in vasca faceva un po' i sorrisini vedendolo fuori ha detto ho visto dei sorrisi compiaciuti e ho detto sto scherzando naturalmente però insomma intanto la frecciatina l'ha tirata e e su Greg che possiamo dire eh Paltrinieri appunto come dicevi te giustamente l'ha ricordato anche lui c'ha avuto questa mononucleosi che la condiziona ma una sfiga incredibile eh sì sì ma cioè voglio dire ma sì cioè c'è il cote e dici no forse mi scusa poi ti faccio continuare Simo ma pensando così fuori dai denti no cioè c'è il covid dice cazzo uno prende il covid e d'altra parte c'è una pandemia mondiale ma in mezzo a una pandemia mondiale te che sei in bolla robe così per allenarti ti vai a prendere la mononucleosi ma è assurda sta roba sì è una sfiga unica davvero cioè che possiamo dire come l'hai visto insomma chiaramente entrare con l'ultimo tempo proprio per rotta la cuffia visto che appunto si parla di nuoto e rotta la cuffia certo e sì non è non è un bellissimo segnale però è importante comunque intanto arrivarci al di là della fatica sicuramente cercherà di recuperare nel tempo che gli rimane da qui alla prossima gara però insomma non l'ho visto in grande condizione e dispiace perché insomma è una delle nostre punti di amante della nazionale di nuoto oltre alla pellegrini così entro già nell'argomento che insomma se già prima avevamo poche parole per descrivere la sua grandezza oggi ne abbiamo ancora meno perché è davvero la divina Simone prima donna arrivare a cinque finali consecutive alle Olimpiadi nella stessa specialità e come ho scritto anche su Twitter c'è nel nuoto da un'Olimpiadi all'altra sembra che passi un'era geologica perché già insomma sarebbe una notizia uno sport di squadra come può essere la palla al nuoto che un atleta faccia cinque Olimpiadi consecutive come Pietro Figlio e del Settebello però si parla comunque di uno sport di squadra del nuoto è diverso e da un anno all'altro possono venire fuori nuovi nuotatori mi viene in mente nel 2008 ai giochi di Pechino c'era nei misti femminili Stephanie Rice che era insomma sembrava destinata a dominare la scena per anni e poi dopo poco è stata oscurata giusto vero 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 per cui insomma io penso che Federica Pellegrini possa essere tranquillamente paragonata a livello di rendimento ad altri livelli costante negli anni a mostri sacri come non so Federer Djokovic Lebron James Cristiano Ronaldo cioè atleti che sono rimasti performanti per tantissimo tempo sì direi proprio di sì ma è una cosa cioè la prima medaglia olimpica l'ha vinta a 16 anni nel 2004 esatto 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 ma di che si parla e pensare che nessuna donna l'abbiamo mai fatto prima in atta appunto avendo comunque l'Olimpia di altri sport dove questa cosa potrebbe essere diciamo così come dicevi anche te no più non so da naturale non è la parola giusta però diciamo più più plausibile nel senso se io penso a uno sport di squadra effettivamente magari poi uno arriva a fare la riserva della riserva a 5 Olimpiadi se ne fa sì oppure mi viene in mente anche uno sport o dressage esatto lo sto per dire il tuo amato dressage non lo volevo dire l'avevo lì così ma è chiaro nel dressage nel dressage credo che ancora oggi abbia il record dell'Olimpiade del campione olimpico più anziano credo esatto i 72 anni del nordgevegese che non mi ricordo come si chiama esatto sì 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 per cui ecco lì sono lì sotto dove ci può stare che tu faccia 5 Olimpiadi di Osei anche ma nel nuoto arrivare sempre in finale nella stessa gara è pazzesco veramente clamoroso quindi io penso che si possa dire che siamo davanti forse la più grande nuotatrice di tutti i tempi perché poi parlano i risultati io vedendo che comunque è arrivata in semifinale col quindicesimo tempo su 16 in finale col settimo tempo su 8 non so quanto possono essere concrete le speranze di medaglia però già così già così ha fatto veramente un'impresa sì in questo Simo l'ha detto anche lei nel senso che lei sperava comunque di qualificarsi dal suo grande obiettivo ha detto sono consapevole il mio corpo non è quello di un tempo insomma non farò la medaglia però ecco già questo mi sembra e poi ho visto anche una grande commozione insomma mi piace anche quello di lei che la chiamiamo la divina fede ma in realtà poi è sempre stata umana in tutte le sue accederba spacciettature insomma mi ricordo anche le lacrime quando nel 2005 non riuscì a vincere il mondiale di Montreal perché forse era stata caricata di troppe pressioni mi ricordo poi nel 2008 prima la delusione poi la gioia per l'oro olimpico certo è una che insomma ha sempre mostrato tutte le diciamo le forze le debolezze dell'essere umano ecco non è perché poi ce ne dimentichiamo spesso insomma io ho visto anche l'intervista alla ragazza che ha vinto il bronzo nel judo mamma mia appressionante bellissima emozionantissima cioè che poi anche questo senso di appartenenza alla sua terra molisana è stato veramente forte come immagine leggevo tra l'altro che sono due soli medagliati e due la vinti gravina naturalmente nella palla a volo sì è un altro nel 36 mi pare una roba Giuseppe Pastore su una roba del genere una roba del genere una storia pazzesca e poi anche io provo a cercare di entrare in empatia con questi ragazzi che veramente fanno degli sport che non sono minimamente mainstream tra l'altro scusa mi voglio ricordarti che c'è il gran p speciale a squadra e la finale del dressaggio proprio adesso guardando la programmazione e so che sei assolutamente interessato esatto sono qui che fremo salutiamo nascimento 911 molisana sì sì molisana grande medaglia di brondo tra l'altro ricordiamolo che la centracchio entrava col 27esimo posto nel ranking quindi è stata proprio cioè questa è davvero un'impresa incredibile fuori veramente da qualsiasi aspettativa cioè non era assolutamente preventivabile no Simo sì assolutamente per cui è una medaglia che ha ancora più valore proprio per questo per il fatto che era completamente inaspettata e poi appunto vederla così emozionata provata questo senso di appartenenza alla sua terra subito a dire spero che i monisani siano orgogliosi di me è stato bellissimo è quello che appunto dicevo questi ragazzi che godono di notorietà per due settimane ogni quattro anni perché poi per il resto dell'anno purtroppo finiscono un po' no ai margini del è certo purtroppo è così tra l'altro insomma sai di che cosa sto parlando sto facendo un po' di ricerche sulla storia della palla a nuoto e ho scoperto che quando la federazione italiana nuoto annunciò di aver ingaggiato Ratko Rudic come nuovo commissario tecnico di Settevello che era il 5 settembre del 1990 la Gazzetta dello Sport scrisse poche righe nel tutto notizia pagina 14 per cui insomma e le pagine principali si parlava della Coppa Italia che erano comunque i primi turni perché era comunque settembre non è che fosse già entrata nel più della competizione per cui insomma diciamo che storicamente c'è sempre stata molta attenzione a questi sport circostanziata però ai giochi olimpici è certo è chiaro tra l'altro è stato impressionante una delle altre cose interessanti è impressionante veramente da un punto di vista emotivo della sua intervista è stata quando ha raccontato che il fratello le fa da sparring partner che il fratello più grande la segue in allenamento cioè a volte veramente sembra retorica però molti delle conquiste che facciamo tutta la scherma che è una grande struttura sono spesso delegate a situazioni di estrema improvvisazione questo va detto quindi vuol dire avere un talento veramente una forza di volontà che al mondo ce l'hanno in pochi sì direi che come italiani siamo campioni mondiali e anzi in questo caso olimpici dell'arte di arrangiarsi impressionante cioè questa si porta a caso a un bronzo immaginiamoci con tutto il ritratto raccontava di avere che l'era a Rio era la sparring partner dell'altra nostra medagliata nel judo insomma quindi della Odette Giuffrida quindi immaginiamoci se questi ragazzi questi mi ricordo quando Maddaloni vinse l'oro esatto il cavolo veniva da un quartiere poverissimo di Napoli in situazione di estra apri la sua la sua poi dopo la palestra per anni in un quartiere complicato cioè immaginiamoci se ci fosse una strutturazione alla francese che cosa potremmo fare nello sport già facciamo un gatto a questo punto no Massimo sì no ma e qui si apre una pagina che potremmo portare avanti per ore insomma anche il fatto che spesso lo sport a livello scolastico sia due ore di educazione fisica la settimana che poi spesso vengono impiegate per ripassare per le ore successive i compiti quindi manca proprio anche la cultura sportiva da questo punto di vista oppure se un ragazzo fa attività sportiva a livello agonistico tanti insegnanti dicono eh però porta via tempo allo studio quando insomma ad un buon classicista mi verrebbe da ricordare men sano in corpo re sano per cui sono sicuramente d'accordo con te figurati il fatto che ad esempio all'università ci vorrebbe più spazio per la storia dello sport abbiamo per fortuna un amico come Nicola Sbetti che sta diventando un luminare del settore però ce ne vorrebbero di più di Nicola Sbetti ovviamente ci vorrebbero molto molto più Simone al mare oggi anche con il green screen sì anche secondo me grande Cacio tanto grande Cacio ciao te salutiamo grande Cacio grande Cacio l'abbiamo visto anche live finalmente grande esperto di basket e stanno preparando tra l'altro una premiazione non so di di cosa aspetta adesso ma la Bordignon ho letto che è in finale va per il podio la Bordignon anche questa sarebbe un'altra medaglia strasorpresa vediamo un po' Bordignon ah no è ufficiale è ufficiale medaglia d'argento per Giorgia Bordignon nei 64 kg eccola qua ce la fanno rivedere adesso la sto vedendo adesso con 232 kg alzati fantastica fantastica anche questo veramente totalmente e camolosamente inaspettato e si ritornano al suo discorso Dario che se ci fosse una struttura a livello nazionale più come dire compatta cioè noi arriviamo dietro ai francesi sempre costantemente nel medagliare ma non perché siano più capaci di noi ma perché era una struttura che garantisce capito agli atleti di fare gli atleti esatto pure mi viene in mente anche nel caso della Gran Bretagna che ci fu certo questo caso che venne fuori con le Olimpiadi che loro investono molto sugli sport individuali cioè tanto anche a livello di squadra c'è sempre una medaglia per cui tanto vale investire nel è chiaro negli sport individuali però è così pensiamo anche al fatto che questo ne parlai quando feci la live che avevo Bartolozzi e Aspromonte parlando appunto della scherma due medagliati olimpici tra l'altro che mi raccontavano ci raccontavamo del problema appunto poi del fatto che molti atleti italiani sono costretti a stare nei corpi d'armata che è un'altra grande questione incredibile sì esatto infatti spesso gli atleti che vincono se ci fai caso ringraziano sempre il gruppo della polizia di stato il gruppo dei carabinieri il gruppo dei fiamme oro per cui è proprio è così che spesso domattina ci dice sì esatto ci dice Cascio domattina alle 10 e 20 c'è l'Italia con chi gioca Cascio perché non ho non ho guardato il calendario ancora sono sono sincero insomma vabbè prima di lasciarti andare Simo raccontaci un po' come è andata la partita di stamani sì ricordiamola sì così a me lo faccio una piccola chiosa sul certo sul torneo di pallanuoto maschile appunto gara molto sofferta che è stata prima di tutto molto combattuta tant'è che era finita eravamo solo sul 2 a 2 dopo i primi due tempi quindi una gara all'insegna del grande equilibrio due grandi difese soprattutto quella greca Zerdevas il portiere veramente era in giornata di grazia e poi l'Italia nonostante noi gliel'avessimo gufata costantemente sì no diciamo che appunto come ha ricordato anche Fabrizio Napoli nel suo articolo su Water Polo di Valkman World era un po' considerato il punto debole della squadra invece oggi ha sfoderato questa grande prestazione proprio contro di noi e poi nel terzo tempo l'Italia ha avuto proprio un blackout clamoroso ha subito 4 gol in pochi minuti ma poi ha avuto una grande reazione come ho detto di testa più che di cuore nel quarto decisivo arrivando a pareggiare quasi quasi a fare un clamoroso sorpasso dove c'è stata l'ennesima parata di Zerdevas su Figlioli in superità numerica devo dire che continuano ancora le sorprese nel torneo della palla a nuoto perché questa notte la Spagna ha battuto il Montenegro e mi hanno detto che è stata una partita molto bella la Spagna ha mostrato ancora una volta un gioco eccezionale come era stato contro la Serbia ma poi la vera notizia è che l'Australia ha battuto la Croazia incredibile sì la Stralia comunque è sempre una squadra ostica però diciamo che sulla carta la Croazia è la favorita per cui è un'Olimpiade che ci sta regalando grandi sorprese insomma vedremo ecco meno male che siamo riusciti a pareggiarla a questo punto allora a questo punto come diceva e poi ti saluto diventa fondamentale vincere giovedì mattina contro gli Stati Uniti per sorpassarli in classifica e tornare primi probabilmente a pari punti con la Grecia che giocherà contro il Giappone però insomma ecco è bene di stabilire subito le gerarchie e soprattutto dare anche un segnale all'avversario che il settebello può aver avuto diciamo una piccolissima sbandata in quegli otto minuti contro la Grecia però è una squadra che vuole puntare a vincere una medaglia speriamo speriamo bene noi continueremo a seguirlo tra l'altro stamani vi ringrazio tutti vi ringraziamo tutti e tutti eravate veramente molto più molto 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 di più di quelli che ci aspettavamo e vi ringraziamo insomma vuol dire che c'è tanta attenzione rispetto a sport come diceva Simone prima che spesso non vengono considerati nei quattro anni che intercorrono fra un'olimpiata e l'altra invece e invece c'è un gruppetto folto di appassionati e insomma quindi è bene anche tirarli fuori Simo noi ci ribecchiamo o domani o giovedì insomma un abbraccio esatto ciao 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 allora salutiamo mentre salutiamo Simone e aspettiamo che arrivi il buon Ivan Sica Cascio allora come è andata stamani allora l'Italia ha pareggiato 6 a 6 con la Grecia dopo essere andata per 4-2 Sosuemi sotto 6-2 nel terzo quarto ha preso 4 gol dopo che il primo tempo era finito 2-2 e poi nell'ultimo quarto li hanno appiazzati 4 a sua volta la Grecia quindi è finita a 6 pari bella partita siamo primi secondi in classifica dietro gli Stati Uniti ma gli Stati Uniti hanno giocato soltanto con Sudafrica sì sì buonissimo poi la Grecia è una delle squadre forti del girone e giocheremo con gli Stati Uniti che sono primi a 6 punti ma hanno giocato con Sudafrica e Giappone quindi insomma il cammino prosegue poi giocheremo con il Giappone sabato e poi chiuderemo con l'Ungheria la notte mi sembra fra domenica e lunedì dopodiché vedremo contro chi andremo a giocarcela eh sì Nascimento lo so l'abbiamo seguita insieme tra l'altro molti si sono gli è piaciuta la telecronaca che abbiamo fatto e abbiamo sperato abbiamo sperato addirittura che fischiasse il rigore poi ci siamo stati con l'uomo in più eh l'espulsione ma non siamo riusciti a concretizzarla tra l'altro il problema vero su cui Campania dovrà lavorare è appunto il fatto che abbiamo fatto due gol su tredici azioni eh con l'uomo in più quindi insomma è un po' poco la percentuale nel frattempo io ho di qua naturalmente accesa l'altro schermo con Giorgia Bordignon che sta salendo sul podio ricordiamo ha vinto la medaglia eh nel frattempo è arrivato Ivan eccolo Ivan anche oggi ha mandato sei chili di lasagne del suocero della suocere no ma l'uomo le ho già digerite per la per la ginnastica per la prossima volta allora nel frattempo stiamo vedendo Ivan dicevo che stiamo vedendo la Bordignon che sta prendendo la medaglia eh ricordiamo è successo adesso pochissimi minuti fa la nel il sollevamento peso 60 fino a 64 chili Giorgia Bordignon ha stampato un agento impressionante assolutamente inaspettato eh grande è stata meravigliosa ha tirato su alla fine 232 chili in totali eh è rimasta soltanto dietro alla canadese Giuffro che ne ha tirato su 236 ma si è tenuta dietro la cinese che ne ha tirato su 230 quindi seconda medaglia nel sollevamento pesi il sollevamento pesi fa quello che lo sparo non sta facendo sostanzialmente lo sparo inizia il tira al volo no il tira segno sì il tira al volo sì il tira al volo domani abbiamo la trap ta 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 con la nostra porta bandiera dovrebbe iniziare lei se non sbaglio e quindi vediamo che succede eh stamani noi abbiamo fatto quando ne parlavamo vai vai ne parlavamo con la shutter intanto levo Ivan prima che ritorni e siamo contenti veramente di questa medaglia un'altra delle tante che comunque in realtà stiamo portando a casa come spedizione anche se va detta la verità pochissimi ori siamo a un oro solo ora ne parleremo anche con Ivan faremo un attimo il punto della situazione in questa seconda parte della trasmissione insomma un oro solo è abbastanza deludente anche perché ricordiamoci che noi nella seconda settimana non brilliamo di certo perché arriva l'atletica arrivano discipline che in cui noi siamo completamente eh al momento incapaci di ottenere buoni risultati intanto grande la Bordignon piange fantastica grandissima veramente proprio contentissima sta piangendo tra l'altro premiata da Stefano Olme che non so cosa cazzo ci faccia Stefano Olme ricordo che Stefano Olme grande grande saltatore in alto uno dei migliori della storia e premia il sollevamento pesi guarda come è contenta bellissima purtroppo non possiamo far vedere niente per questione di diritti rinseriamo Ivan adesso che è tornato è andato a finire l'altra porzione di lasagne al tiramisù che l'ha lasciato nell'altra stanza stavo dicendo Ivan facendo un po' il punto della situazione come numero di medaglie complessive ci siamo sostanzialmente quello che avevamo pensato di arrivare intorno alle 30 31 medaglie più o meno il saldo è quello credo il saldo sia sia quello lì insomma il problema sono le vittorie eh lo so poi come dicevo ieri noi non abbiamo punte guarda non abbiamo i valtrinieri più ormai nel senso che si è ammalato quindi non credo che possa fare cose particolari non abbiamo più la Pellegrini non abbiamo più questi grandi non abbiamo più Ambriani cioè persone che ti portavano due tre addirittura ori e ti aggiustavano il medagliere però secondo me è un paese che oggi abbiamo vinto nella scherma sollevamento pesi e giudo quindi non sono in sette sport diversi abbiamo vinto medaglie abbiamo mancato la vittoria perché diciamocelo chiaro la Horn era una vittoria un quarto nella un quarto nella Ganon un quarto nella Gimna il risultato il risultato era ma la Horn è stato proprio clamoroso perché senza quei due secondi aveva fatto un tempo migliore della prima quindi purtroppo ha preso quella penalizzazione all'inizio e l'ha pagata carissima all'italiana poi non agli italiani poi non succede nemmeno una volta una botta di culo che dire cioè sbaglia qualcun altro comunque è vero forse però dovemmo cominciare a domandarci se forse non è il caso di cominciare a aiutarli e a sostenerlo un po' di più questo sport perché l'intervista oggi della nostra del nostro bronzo molisano è stato abbastanza illuminante cioè si allena con la sparring partner del fratello minore l'allenatore del fratello maggiore cioè si allena in condizioni estreme estreme che un paese civile non dovrebbe accettare come dire abbiamo la la diffusione economica della gestione sportiva nel senso cerchiamo di aiutare tutti gli sport e poi in fondo però questo si vede appunto vincendo così tanto in tanti sport o comunque essendo competitivi in tanti sport perché cioè abbiamo una marea di quarti quinti sesti e settimi posti quello è eccellenza mondiale arrivare anche ottavo in un'olimpiade qualcosa di enorme dovremmo costruire più punte meno sport diffuso io non sono d'accordo però io non sono d'accordo su questo però credo che ad esempio alcune eccellenze che abbiamo che sono molto chiare come la scherma il tiro al volo cioè ci sono delle situazioni che sicuramente vanno protette un pochino di più questo direi di sì mantenendo e implementando il sostegno a tutto lo sport dal basso alla fine basterebbe non fare come fa l'Inghilterra ne parlavamo con Simone prima l'Inghilterra alla fine sceglie alcune punte e quelle aiuta e poi vince naturalmente però è molto l'Italia come scelta io farei più come fa la Francia cioè che ha un ministero dello sport molto forte molto forte molto finanziato con grandi centri accademi nazionali sparsi su tutto il territorio c'è l'esempio francese che è molto simile al noi e però ottiene decine di medaglie in più a ogni olimpiade e quindi quello è un esempio interessante se pensiamo anche oggi poi ti lascio la parola a te Ivan che ancora nel secondo governo questo governo Draghi che abbiamo non c'è nemmeno un ministro dello sport insomma mi sembra significativo di quella che è un po' la situazione no? No lo sport debba essere gestito organizzato e come dire ha aiutato in qualsiasi modo chiaramente sfondi una porta aperta la Francia una cosa che noi non abbiamo è che diciamo io personalmente ma tutti dovremmo volere cioè la multirazialità vera certo perché sono determinati sport in cui determinati corpi diciamo sono più predisporti di altri c'è poco da fare ed è bello così voglio dire cioè la squadra femminile di judo francese sono tutte ragazze di colore quasi tutte fortissime e certo quindi quello al di là del fatto che in questa olimpiade nello specifico la Francia sta perdendo ori su ori sì esatto ora effettivamente è vero effettivamente è vero quindi cioè se prendiamo questa olimpiade siamo meglio noi se prendiamo appunto tutto il cammino tutti i campioni del mondo che hanno loro e anche appunto la varietà sportiva che hanno anche perché poi arriverà loro sono molto forti nella seconda settimana arriva il ciclismo su pista in cui sono delle mine incredibili insomma noi purtroppo pagheremo oltre il modo la seconda settimana dove la regina di tutti è l'atletica e noi nell'atletica proprio non 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 è una squadra giovane sicuramente non possiamo vincere metà la squadra giovane da trent'anni cioè adesso ci sono ci sono un po' di ragazzi veramente giovani sì certo c'è Fabri nel peso le ragazze comunque della quattro per quattro potrebbero andare bene però sono casi isolati non c'è un movimento dietro comunque una cosa che ti volevo anche chiedere certo che sta dimostrando questa questa olimpiade che comunque l'asse proprio sportivo si sta spostando si era già spostato prima ma adesso è evidentemente spostato rispetto all'Europa cioè se vediamo la Germania la Germania ha tre bronzi Germania è malissimo la Germania è malissima la Francia è male noi ci barcammeniamo alla fine tene botta tengono botta gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti tengono botta la Gran Bretagna che ha deciso diciamo dall'inizio degli anni 2000 di ripartire cioè la Gran Bretagna non mi ricordo se Atlanta 96 se non mi sbaglio Atlanta 96 Atlanta 96 fece schifo vinse due medaglie la Gran Bretagna di due medaglie e invece poi l'Asì che hanno voluto come dire investire sullo sport proprio beh lì hanno scelto no come si diceva prima i primi anni 2000 hanno avuto pure l'Undra 2012 cioè la certezza di organizzare un'Olimpiade e lì però allora hanno preso alcune discipline alcuni atleti li hanno finanziati tantissimo li hanno costruiti li hanno fatti vincere una cosa che ti volevo dire invece qual è la politica asiatica perché qua non parliamo solo di Cina diciamo che la Cina lo sai è una politica che può costruire diciamo in vari sport oltre ad avere eccellenze fisiche già predefinite come ping pong i tuffi eccetera ma qua parliamo di Corea del Sud di Giappone comunque cioè i grandi paesi asiatici Hong Kong cioè vincono medaglia Hong Kong come dove piovesse diciamo rispetto a prima come mai Asia si sta muovendo così tanto in tante discipline che prima io credo che allora va detto una roba secondo me naturalmente Giappone vince perché la scuola di casa e come spesso succede le scuole di casa finanziano un sacco di sport nell'occasione dell'Olimpiade e sta ottenendo risultati ben oltre qualsiasi tipo di aspettativa secondo il mio punto cioè nove medaglie d'oro al Giappone cioè voglio dire non l'avrei detto forse quasi alla fine certo certo però sono tantissime comunque la Cina è la Cina nel senso che loro come dici te cioè strutturalmente sono un miliardo e otto oh cioè sono un miliardo e otto è illimitato sostanzialmente poi hanno alcune discipline in cui sono maestri assoluti quindi vanno un po' in automatico la Corea del Sud è un bel secondo me ecco il segnale vero da guardare rispetto a quello che stavi chiedendo è secondo me la Corea del Sud la Corea del Sud ha fatto un investimento forte a livello sportivo da molto tempo si parla più o meno di un progetto lanciato una sei sette anni fa e in prospettiva da arrivare a Tokyo in un certo modo e poi lasciare il segno nel senso che loro anche per questioni di competizioni geografiche con la cugina Corea del Nord che appunto non sta partecipando ma che in realtà negli ultimi anni ha fatto dei passi in avanti giganteschi a livello sportivo soprattutto nel femminile ad esempio la Corea del Nord femminile è la seconda squadra più forte terza squadra più forte di calcio d'Asia dopo Giappone e Australia però non partecipa naturalmente a niente perché sono col Covid e loro hanno rinunciato a qualsiasi cosa la Corea del Sud ha questa spinta hanno una spinta economica enorme pensa anche guardavo mi sembra anche la Thailandia comunque mi sembra che ha già preso un premio ha preso una medaglia al Vietnam cioè nel senso no no si muovono tantissimo Cina Taipei ha sei medagli Cina Taipei impressionante lì sono soldi cioè sono soldi questa è la dimostrazione che prendi come dicevamo forse a proposito della scherma ieri no cioè si allarga il campo dei competitor anche perché i competitor investono in strutture e allenatori alla fine poi è quello cioè per migliorare un movimento devi prendere gli allenatori bravi e avere le strutture dove poterti allenare questo è il dato e oggi in quelle parti del mondo ci sono tanti soldi 20 anni fa cioè i soldi sono arrivati in questi posti esatto e da 20 anni prendono diciamo talento tecnico chiaramente stanno costruendo gli atleti pensa anche alla nostra scherma o agli non solo i nostri allenatori però tanti allenatori italiani tanti allenatori francesi sono andati in quelle zone a allenare e alla fine poi te la porti dietro cioè impari e poi migliori lì la politica sportiva italiana è stata manchevole perché comunque per quanti soldi gli possono offrire se la distanza è troppo troppo ampia allora se ne vanno ma se la distanza non è così ampia secondo me poi questi talenti tecnici sarebbero rimasti secondo me anche secondo me c'è stato un video politico enorme ma io mi ricordo quando montano ormai molti anni fa protestò per la partenza di bauer che aveva portato la sciagola a livelli mai visti da 30 anni o quando cerioni abbandonò d'improvviso d'amblè la nazionale di fioretto femminile che vinceva qualsiasi cosa per andarsene in cina cioè alla fine cioè te li devi trattenere questi allora la grandezza la grandezza secondo me della scuola delle scuole italiane sono ovviamente la voglia degli atleti ma la grandezza degli allenatori cioè che spesso noi dimentichiamo ma i nostri allenatori sono veramente in moltissime discipline di altissimo livello di altissimo livello infatti poi ce li portano via mi capi un altro però insomma facciamo un po' il punto della situazione di oggi dai Ivan perché oggi Alessandro non potrà venire Gennari però insomma avevamo dichiarato la medaglia per le ragazze e è arrivata per la Polonia no per la Polonia quello che mi ha dato il messaggio stamani alle sei mi ha detto uscita subito è uscita il primo turno no guarda la spada la spada femminile come dire c'è costato tutto il fatto che c'è questa Estone che si chiama Leis madonna ragazzi che è uno oltre due migliori spadiste nell'individuale e ha ci ha disintegrato nella spada scuola cioè ha vinto da solo contro di noi altrimenti abbiamo fatto io pensavo che con la Cina alla fine perdevamo anche il bronze invece ce l'abbiamo fatto la Cina ricordiamolo che è la prima squadra del ranking nel senso non abbiamo di fronte la campionessa non ha tirato la finale penso aveva problemi fisici in marzo problemi fisici sì sì comunque insomma ci portiamo a casa questa medaglia e poi ci sono state le medaglie incredibili come appunto quella del judo di cui parlavamo sta ragazza molisana che dal niente tra l'altro con un'intervista strappa lacrime alla fine veramente fantastica l'Olimpiade ci regala queste storie che troppo spesso poi vengono dimenticate ma io e Ivan stiamo lavorando così lo diciamo al pubblico a un programma in cui cercheremo format in cui cercheremo di tenere vive le storie di questi ragazzi anche fra un'Olimpiade e l'altra perché è allucinante che scompaiano cioè le celebriamo oggi ma insomma neanche improvvisamente vengano messe nelle bare in questi quattro anni e come gli zombie risorgono no Ivan no ma come dico sempre l'Olimpiade dura quattro anni non c'è ogni quattro anni quindi sono due cose completamente due approcci allo sport completamente differenti cioè questi arrivano fanno quattro anni di preparazione per una giornata di gare spesso cioè è una roba che noi ci dimentichiamo magari poi dici è arrivata quinta sesta porca miseria cioè complimenti comunque se arrivi qui e cioè te la giochi seguirle starle vicino a questi atleti anche perché davvero fanno sacrifici rispetto rispetto ad alcune nazioni no ma ad altre cioè campano con i soldi con i 1500 euro statali cioè stiamo dicendo esatto se no certo come dire vanno nel contesto sportivo più importante di tutti appunto da da impiegati statali alla fine non è una cosa alla fine no non è assolutamente semplice tutt'altro e ricordiamo che molto dell'ottanzi quasi completamente il gettito di denari che arrivano agli sport minori deriva dal tanto vituperato calcio anche quello non dimentichiamocelo mai eh che il sistema anche quello è un errore secondo me dovrebbe essere stato a foraggiare molto di più però a gran parte del sistema sportivo si finanzia si regge sui soldi che il calcio mette eh cioè quindi insomma ricordiamocelo poi sempre questa roba poi eh sono successe alcune cose la fede la divina che incredibile che che altro possiamo dire di lei no lei si è un ha una forza d'animo incredibile eh alla fine davvero era come tempi come tutto come condizione era non era quasi da semifinale rispetto alle altre eppure cioè quando è alle strette riesce sempre a cavarsela è una cosa che cioè l'è tutta forza di volontà c'è una forza di volontà la clamorosa c'è il talento del modo che annusa proprio la gara cioè quando c'è proprio il campione campione come dire che fa epoca è quello esatto quella quinta ricordiamolo no quinta quinta finale consecutiva in quinta finale in cinque olempe consecutive come nessun'altra donna mai nella storia una roba impressionante eh che la ci domandavamo prima con Simone eh no ci dicevamo cazzo cioè poi l'ha fatto nel nuoto cioè che è uno sport individuale dove il ricambio generazionale è a ogni olimpiade o addirittura se non ogni due anni cioè la roba in che c'è uno dice cavolo nel dressage che tanto ama Ivan cioè nel senso uno può concorrere fino a 72 anni no cioè hanno vinto una medaglia a 72 anni nel dressage il record è quello lì però cavolo questa l'ha fatto nel nuoto che è uno degli sport più competitivi che ci siano cioè quindi cavolo chapeau la quarta nella sua semifinale Macintosh la canadese aveva 18 anni di meno cioè era la sua figliola praticamente nel 2006 era la figlia ringraziamo Aereo Mac per il follow e per i saluti c'è Aereo Mac e però quello che dobbiamo parlare un secondo Ivan invece è quello che sta succedendo ai ragazzi del mezzofondo che detti l'abbiamo già parlato purtroppo ha perso probabilmente l'occasione della vita perché veramente i 400 dell'altro giorno li poteva un detti in forma li vinceva diciamoci la verità purtroppo non sappiamo cosa sia successo ma oggi Greg abbiamo visto che probabilmente non vincerà nessuna medaglia no no Greg non è in forma c'è poco è poco da fare e lì perdiamo tantissimo perché perdiamo perdiamo tre competizioni in cui cioè potevamo non dire non dico fare tre ori ma uno due almeno libera sempre vedi come il medagliere poi quando ti manca una punta del genere il medagliere è quello che anche perché anche perché no Greg ne avevamo già parlato aveva le due gare al chiuso e poi c'era le acque libere dove faceva almeno una gara quindi ora magari non tre medaglie ma due probabilmente le portava a casa diciamoci la verità su senza presunzione cioè credo che è un campione di quel valore lì cioè agli europei che hanno fatto quando è stato a maggio nelle acque libere ha dominato sì anche se c'è solo una gara c'è solo una gara che era era 10 chilometri però gli europei sono tipo gli europei sono tipo il mondiale quelli in acqua libere quindi sì perché olandesi francesi qualche tedeschi nel senso quindi questa è una sforzione questa ha un mese e mezzo è sfiga vero cioè cazzo ha preso la monocleose proprio l'assurdo no Ivan cioè siamo in mezzo a una pandemia mondiale dici oh ha preso il covid cazzo oh ha preso il covid no cazzo ha preso la monocleose eh sì questa è questa è sfiga c'è poco da fare c'è proprio poco da fare nel senso che fai non si è allenato un mese si è allenato pochissimo eh no l'ha dichiarato è arrivato lì è arrivato senza allenare se gli capitava a gennaio era una cosa ma capitagli a giugno è proprio però io penso che poi queste sfighe si compensano speriamo speriamo la fortuna ti toglie qualcosa e te ne dà un altro nel frattempo altro quarto posto però lì veramente applausi scroscianti per le ragazze della ginnastica artistica è successo vabbè ma lì veramente cioè sono state terze fino hanno combattuto per il terzo posto fino all'ultimo ma che a loro cosa gli puoi dire cioè brave un po' al camisera ricordiamoci che fra un paio domani c'è il concorso generale ce ne abbiamo un paio di loro e poi fra due giorni c'è Vanessa con possibilità di medaglia nel corpo libero entra con il primo valore assoluto quindi insomma cioè anche lì speriamo un bene come dire il fatto che l'Italia è così forte nei team nelle squadre quello secondo me è da sottolineare cioè vuol dire che si costruisce appunto il livello medio è alto no? di quello in certe discipline che il livello medio è alto 4% stile libero ginnastica artistica tutte le squadre no è la 4% Ivan Ivan è pazzesco cioè i ragazzi sono entrati col primo e il quarto posto nella semifinale quelli sono forti per i bimbi lì ma c'è con guarda c'è con diventerà qualcosa di incredibile c'è con che va forte anche a dorso quindi cioè un ragazzo insomma di livello altissimo poi domani che dobbiamo aspettarci invece Ivan così andiamo verso la chiusura di gare da guardare ha scritto l'artigo non se lo ricorda veramente no ma l'ho scritto un mese fa vediamo subito vai 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 tranquillo Giap fuori nel frattempo Cascio ci dice sì purtroppo l'Italia è stata del 3x3 è stata eliminata ai quarti ma c'è che aspettarsi di più bravissime ci mancherebbe altro Francia usa la semifinale Giappone fuori accedere ma non me l'aspettavo Giappone fuori non me l'aspettavo Francia usa è l'anticipo della finale praticamente domani domani due due medaglie di cui una d'oro devono uscire da gli 800 no dai 1500 di Guadarella beh una d'oro penso che arriverà con 40 secondi di vantaggio con 40 secondi di vantaggio c'è la Crono Umini domani c'è la Crono Umini attenzione c'è Ganna e poi soprattutto mi sa che domani c'è il canottaggio e si conclude il windsurf dove siamo primissimi nel windsurf ah sì con cottoni costoni come si chiama ragazzi perché siamo primi almeno guardavo ieri le gare siamo primi quindi anche quella rinverdisce le medaglie innumerevolmente dalla Sensi ricordiamoci che anche lì avevamo una miniera di medaglie perché la Sensi ha vinto quattro medaglie quattro olimpiadi diverse c'è una roba mostruosa però vedi siamo cioè siamo competitivi in ogni disciplina le discipline dell'acqua nelle discipline a parte l'atletica Ivan l'atletica ma com'è possibile cazzo l'atletica si fa già schifosi ma l'atletica è la più difficile cioè eh ho capito ma è la più è la più la regina eh lo so ma l'atletica è dove cioè come dire il fisico predispone a un determinato a una determinata performance se tu l'alleni al meglio è in Giamaica negli anni settanta non c'erano gli allenatori ma adesso spendi e arrivano anche perché poi meno male è arrivato Marcel Jacobs finalmente abbiamo anche noi cominciato a accettare questi ragazzi lottare lottare con uno predisposto fisicamente allenato come te eh ma in fisico alla fine poi è come Larissa ora sicuramente peccato non partecipa non avrebbe vinto medaglie la Iapichino però avrebbe fatto esperienza però sono convinto che nei prossimi anni la figlia di Fiona May ci regalerà delle soddisfazioni ma anche lì perché ha le fibre muscolari della madre e quelle del padre messo insieme quindi è un bel è una bella mescolanza che aiuta infatti guarda noi Parigi 2024 ce la dobbiamo aspettare veramente con ansia perché poi tutti questi di cui stiamo parlando che stiamo vedendo sono giovanissimi cioè capito i grandi vecchi lasceranno la Pellegrini cioè gli altri cioè gli altri ci sono tutti ma che Greg è Greg quant'anni c'ha 26 mi sa partrinieri dopo le batoste per sfortuna che prenderà quest'anno sicuramente non mollerà cioè farà di tutto per arrivare a Parigi a 26 anni cioè fra tre anni ne ha 29 quindi è nel pieno proprio massimale del picco dell'atleta quindi cioè figuriamo Kinder fetta al latte e volare per la figlia di Fiona sì me lo ricordo Cascio era la pubblicità effettivamente c'era la Fiona con la bimba piccina che mangiava che mangiava in casa ve lo ricordo benissimo e poi c'è Fabi la grande speranza nel peso ragazzo giovanissimo vediamo come va anche lui che succede io Jimbo Tamberi non lo considero non lo sopporto quindi no 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 ma poi non mi piace questo anno è andato male credo che ma poi non mi piace peccato che abbiamo perso l'esempio lì l'altra grande miniere italiana che era la marcia non siamo più gli stessi da qualche anno è qualcosa potrebbe uscire una medaglietta dalla Marta dalla Antonella Palmisano più di questo è vero che ci hanno massacrato Svarzer in maniera secondo me veramente imbarazzante dire poco imbarazzante probabilmente rispetto a quello che è successo molto grave però la marcia è qualche anno che porta sì magari una medaglia piccola anche lì sono entrati gli asiatici c'è poco da quando sono entrate queste potenze economiche cioè gli asiatici hanno preso i da Milano le hanno portate in Cina è quello capito hanno costruito una squadra non è che c'hanno il talento di base hanno portato da Milano in Cina e le hanno fatte allenare la squadra e vincono grazie all'allenatore italiano bravissimo poi è gente che se gli cioè nel senso non gli vado contro ma è così se gli dici devi vivere due anni chiusi in un collegio senza vedere i genitori no lo fanno con i tuffatori no lo fanno senza problema come dire culturalmente sono stati già strutturati all'obbedienza alla appunto all'obbedire allo Stato soprattutto un organo diciamo superiore non una persona e quindi loro lo fanno e se metti questa costanza con un grande tecnico è un talento naturalmente ci vuole il talento di base però quello ce l'hanno per alcuni sport sono proprio sembrano nati per fare quella roba tipo i di tutti un miliardo talentuoso lo trovi è chiaro su un miliardo e otto voglio dire poi ci vuole anche come dici te l'approccio perché se no anche l'India andrebbe benissimo ma l'India non va così bene come la Cina la cultura la cultura insomma a volte la cultura era dettata anche dalle uova di tartaruga però questa è un'altra storia Vuminxia che io più vecchio ho visto anche Ivan probabilmente insomma quando esplosero a un certo punto nell'atletica perché mangiavano le uova di tartaruga ora va bene però insomma ci prendiamo tanto in giro ma anche nel nuoto un doping mostruoso arrivarono facevano tempi che erano impensabili quindi insomma a volte c'è anche l'aiutino allora Ivan io direi che ci ribecchiamo domani a questo punto sempre due e mezzo dossi media dossi media domani domani c'è anche la fila l'ultima giornata del torneo maschile di calcio quindi vedremo chi passa aspetta do notizia di chi è passato oggi nel femminile perché il femminile ricordiamoci giocano le nazionali vere mentre il maschile gioca l'under 23 quindi diciamo che è una roba leggermente diversa e vediamo vediamo io ho visto stamattina la partita fra Australia e Stati Uniti che si sono divisi la posta senza farsi male 0 a 0 mentre l'Olanda a proposito di Cina ha stroncato la Cina 8 a 2 così proprio infelicità e il Brasile sta vincendo 1 a 0 con lo Zambia mentre Canada Gran Bretagna 1 a 1 Cile Giappone 0 a 1 quindi dovrebbe passare regola vediamo classifiche ve lo diciamo subito passano sicuramente Gran Bretagna e Canada e Giappone passano Olanda Brasile Svezia Stati Uniti e Australia come prima migliore terza quindi l'Australia andrà a giocare contro la Gran Bretagna ok mentre gli Stati Uniti giocheranno al momento contro l'Olanda e poi Svezia Canada Olanda Stati Uniti in questo momento è il meglio del calcio femminile no 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 gli Stati Uniti gli Stati Uniti sono messi male sono messi male oggi oggi gli è andata bene l'Australia ha preso una traversa un altro gol annullato gli è andata parecchio male no secondo me i favoritissimi Olanda e Brasile Olanda e Brasile proprio l'Olanda 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 spaziale quindi l'Olanda è fortissima l'Olanda è fortissima e domani c'è l'ultima giornata del campione del maschile vediamo anche lì chi passa e che cosa succederà non abbiamo detto stanotte che gare ci sono il canottaggio il canottaggio e il nuoto cioè stanotte nel nuoto c'è Pellegrini Quadarella e 4x2 ah non abbiamo ricordato la tua squadra del cuore che noi non stiamo seguendo ma in realtà sta andando come cioè come si dice a Pisa leva il fumo alle schiacciate cioè proprio una velocità incredibile è la nazionale di pallavolo femminile che è mostruosa 3 a 1 anche la Turchia a casa anche tu le turche inarrestabili ho visto la partita hanno perso il secondo set ma veramente sono inarrestabili cioè grande squadra l'Italia l'Italia penso è l'unica che può frenarle è la Serbia sì se la giocheranno io penso che se la giocheranno cioè se la possano giocare cioè le ragazze sono forti davvero sono veramente molto forti molto forti quindi abbiamo trovato un paio di talenti fisici incredibili vabbè anche lì perché come dicevamo finalmente abbiamo accettato che certe ragazze di mescolanza fossero italiane davvero come la Paola e come la Miriam e quindi queste cose ci stanno aiutando ma d'altra parte sono italiane cioè non è che si è andata a chiappare più italiane cioè non è capito come uno non sta mica dicendo di fare come il Qatar che naturalizza la qualsiasi o uguale a altre nazioni che naturalizzano la qualsiasi no cioè ragazzi che nascono e crescono qui dicono italiani e facciamoli l'aigono parla l'aigono parla un nordista una lingua del nord a volte è comprensibile quindi voglio dire cioè no ma vabbè ma di che stiamo parlando ma no è incredibile che in Italia ci sia questa questa discussione veramente forte secondo me ne abbiamo già parlato spesso anche a proposito del pallone abbiamo i rumeni che sono la prima comunità poi però la seconda è la guineana quindi ci avremo un sacco di ragazzi sicuramente che sarebbero pronti per correre fare quel tipo di attività fisica che per le fibre muscolari che hanno sicuramente sarebbero facilitati ma succederà Ivan dai succederà sì succederà succederà il futuro non lo puoi non lo puoi fermare bravo con questa summa incredibile di Ivan ci becchiamo domani alle due e mezzo ciao Ivan ciao a tutti ciao ragazzi forza Italia forza Azzurri ciao ciao